Oggi a Palazzo Vidoni, alla sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Forum Multistakeholder ha partecipato al lancio della nuova strategia globale del governo aperto. Ci siamo riuniti qui a Roma, proprio nell'ambito del nostro percorso come forum, di messa a punto e di proposta di una nuova strategia nazionale di governo aperto. Quindi la tappa di oggi è stata la seconda tappa di un percorso che abbiamo avviato il 20 aprile scorso con un webinar di ascolto dedicato alle circa 68 realtà che fanno parte della community del governo aperto italiano, quindi organizzazioni della società civile, pubblica amministrazione, rappresentanti del mondo della ricerca e delle imprese. Domani ci incontreremo di nuovo, avremo una plenaria come forum nella quale appunto discuteremo ciò che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo raccolto dalla community e quello che abbiamo ascoltato oggi dalla chair del partenariato globale che è al governo lettone. Domani sarà un incontro a porte chiuse ma giovedì 12, proprio in chiusura della settimana del governo aperto che abbiamo aperto oggi con questo incontro globale e con il ministro Zangrillo. Giovedì 12 dicevo chiediamo a tutti i cittadini interessati ai temi del governo aperto e quindi trasparenza, collaborazione e partecipazione per migliori politiche pubbliche di partecipare con noi al webinar nel quale continueremo questo ascolto, questa elaborazione di una nuova strategia nazionale secondo proprio la metodologia della partecipazione del governo aperto. Quindi siete tutti invitati, vi aspettiamo.